L'Osservatorio di Torino è stato fondato circa 250 anni fa grazie alla donazione del re dell'epoca di un locale in via Po per osservare il cielo. Ha avuto come sua sede per molti anni una cupola al di sopra di Palazzo Madama in Piazza Castello e poi nel 1912 si è trasferito a Pino Torinese perché il cielo di Torino per colpa dell'illuminazione pubblica era diventato inadatto alle osservazioni scientifiche e quindi sono circa 100 anni che l'Osservatorio è posizionato in questa sede. Dal 2001 l'Osservatorio di Astrofisica di Torino fa parte dell'Istituto Nazionale di Astrofisica che è un istituto di ricerca sotto il controllo del Ministero dell'Università e le attività principali che si svolgono sono molto cambiate rispetto a quelle storiche dovute principalmente al fatto che nonostante il posizionamento a Pino Torinese il cielo non è più adatto per osservazioni. Le principali attività dell'Osservatorio sono rivolte in gran parte alle attività spaziali con la partecipazione a progetti di satelliti per l'osservazione di stelle, di galassie e del Sole. Le altre attività sono le classiche attività di osservazioni astronomiche che però non vengono più svolte in questa sede ma facciamo riferimento alle grandi strutture osservative internazionali che sono posizionate nei pochi luoghi rimasti al mondo dove il cielo ha caratteristiche tali da permettere buoni livelli di osservazione. In particolare il telescopio nazionale Galileo posizionato nelle isole Canarie e il sistema di telescopi europei in Cile con telescopi di 8 metri e con la prossima costruzione di un telescopio di più di 30 metri di diametro. All'Osservatorio Astronomico abbiamo una grande attività di divulgazione dell'astrofisica con il pubblico basata principalmente con osservazioni sia diurne che notturne del cielo e è rivolto sia alle scuole che al pubblico generale soprattutto per le osservazioni notturne e queste attività sono fatte in collaborazione con l'associazione Apreticello che gestisce il planetario di Torino che è posizionato a pochi metri dalla nostra sede. Queste attività hanno fatto nascere l'esigenza di un maggiore coordinamento dell'attività divulgativa soprattutto in campo astrofisico ma anche in campi scientifici diversi per offrire un miglior prodotto per il pubblico che è certamente molto interessato all'astrofisica ma che beneficia di un maggior coordinamento delle varie iniziative di divulgazione. Grazie